Ciao ragazzi, bentornati oggi in un nuovo video, un video molto richiesto, soprattutto in questa fase dell'anno dove magari è tornato un po' di interesse verso FIFA visto che state tutti quanti belli asciugamanati, che volete tryhardare le vostre weekend league per cercare di portarvi a casa i premi, visto che ci sono i tots e appunto la domanda più gettonata nell'ultimo periodo, ma più in generale comunque di tutto l'anno è come maledettamente mi vado a gestire io le partite di VL quando devo giocare, quando ci sono i server buoni, quando non ci sono i server buoni, quando becco i giocatori scarsi, eccetera eccetera allora iniziamo a sfatare un enorme mito, ossia che non esistono giorni in cui andate a beccare i giocatori forti e i giocatori scarsi perché il matchmaking funziona nella stessa maniera per tutti, ossia su una striscia di 15 partite una vittoria vale più 1 e una sconfitta meno 1 quindi il matchmaking cerca sempre di andare a matchare gente che ha lo stesso punteggio motivo per il quale può capitare che uno parte 0-5, poi le vince tutte, quindi è più 10 io le ho vinte 10-0, le ho vinte tutti, sto più 10 anche io e becco uno che magari sulla carta è più scarso quindi il matchmaking in linea di massima funziona così poi che le vie del matchmaking siano infinite e siano oscure e possano capitare delle cose ambigue per le quali io sul 20-0 becco uno che sta a 19-11 o 19-10 perché 19-11 ha finito la VL quello è un altro discorso e non potremo mai capire in base a cosa effettivamente accade l'unico consiglio che appunto vi posso dare è quello di non giocare troppe partite il venerdì perché se fate tante partite il venerdì, visto che l'utenza è minore, è più facile che arrivati ad un certo punteggio potete trovare sulla vostra strada dei giocatori che comunque sono molto forti un'altra cosa che mi chiedete è come andare a controllare se un giocatore è verificato, è un pro player, eccetera ad oggi l'unico modo affidabile al 100% è controllare il sito di fifa.gg ovvero il sito dove sono registrati tutti i verificati che hanno guadagnato pro points e lì al 99% a meno che, come nel mio caso, inserite la loro gamertag vi deve per forza uscire se è verificato appunto poi può capitare che magari la gamertag sia differente ma è veramente un caso raro e un caso limite un'altra domanda ricorrente è quando c'è il gameplay buono? anche questo è un enorme luogo comune perché gameplay buono cambia da persona a persona cambia da zona a zona, da città a città, regione a regione, paese a paese il consiglio che vi posso dare io è quello di non diventare schiavi del gameplay, schiavi della weekend league dovete cercare di giocare quanto più possibile nelle fasce rare che più vi aggradano diciamo che vi consiglio di andare ad evitare la fascia che si avvicina intorno alle 19 perché è la fascia dove escono di solito le promo su fifa quindi diventa un problema perché lì c'è una maggiore affluenza sui server quindi è il momento più rognoso dove magari potete beccare disconnessioni eccetera per il resto secondo me la chiave sta nell'essere cangianti nel non tiltare quando magari beccate il gameplay lento se è proprio ingiocabile di fermarsi e riprendere in un secondo momento ma altrimenti cercare di adeguarsi a tutte le occasioni in maniera tale che quella volta che magari beccate il gameplay più lento siete preparati quando beccate il gameplay che vi piace siete preparati quando beccate quello più veloce che magari vi dà fastidio siete preparati uguali quindi non diventate secondo me schiavi degli orari un altro consiglio che posso darvi è quello relativo alla suddivisione delle partite io per quanto mi riguarda la mia gestione personale delle partite solitamente faccio 8 il venerdì, 9 il sabato e le restanti 13 le faccio la domenica a partire più o meno da post pranzo quindi 14 circa e facendo questa divisione delle partite mi sono trovato sempre bene adesso qui subentra un altro fattore importante ossia la vostra tenuta mentale perché non tutti riescono a sostenere x y partite di fila soprattutto quando magari si verificano delle sconfitte un po' così che vi fanno tiltare quindi quando si verifica ciò e voi sapete di non avere una tenuta mentale delle più strong possibili il mio consiglio è quello di fermarvi perché altrimenti entrate in un circolo vizioso dove ne giocate una e la perdete, ne giocate un'altra e la perdete lo spirito di rivalsa prevale su quella che è la vostra composure e iniziate a giocare sempre più tiltati e iniziate a infilare un filotto negativo che vi compromette la weekend league e dovete solamente poi azzerare e ripartire per la prossima e non è neanche facile perché spesso venite condizionati quindi un altro consiglio è quello relativo alla suddivisione delle partite un altro metodo efficace può essere che so 10 il venerdì, 10 il sabato, 10 la domenica bene o male facendo così io mi sono sempre trovato discretamente bene un'altra cosa che voglio andare a sfatare, un altro luogo comune è quello che la domenica notte devo giocare perché si beccano i giocatori scarsi ragazzi questo secondo me è vero ma fino a un certo punto motivo per il quale ormai la domenica notte è diventato il covo dei peggio tryharder perché essendosi diffuso questo luogo comune tutti quanti cercano di mantenersi le partite più importanti per la domenica notte quindi si va a creare un accumulo di giocatori con un buon risultato pazzesco, è la possibilità di beccare a quel punto giocatori che bene o male sono bravi e hanno uno scorso simile al vostro aumenta anzi ormai il mio consiglio è quello di giocare più nelle fasce pomeridiane dove magari c'è più un'affluenza di casual player piuttosto che la notte dove si concentrano proprio quegli accaniti che vogliono puntare a fare ottimi risultati quindi diciamo che per quanto riguarda l'approccio alla weekend league queste sono le linee guida che io cerco di seguire la weekend league non è un qualcosa di eccessivamente oscuro basta seguire secondo me questi piccoli arcoggiamenti già per poter andare a migliorare in un certo modo quindi nulla, spero che questi consigli possano esservi stati utili e nulla vi do appuntamento come ogni giorno in live su twitch dalle 12 alle 16 e nulla ragazzi, un salutone, peace